Il filo che lega agli spettacoli tra loro in realtà è la nostra esperienza negli altri teatri. Noi non conosciamo il pubblico di Vercelli, non sappiamo se ama di più la prosa classica, la prosa brillante, la musica, il cabaret. Abbiamo cercato di proporre tutto quello che c'è di meglio secondo noi nel panorama teatrale in questo momento. Ci siamo basati appunto sull'esperienza degli altri teatri, c'è davvero tanta carne al fuoco, credo che ce ne sia per tutti i gusti, da coinvolgere, l'abbiamo presentato prima, un progetto per coinvolgere appunto i piccolini fino al pubblico più consolidato, ai grandi e ai medi. È un teatro meraviglioso, è un teatro che va riempito, è un teatro che merita di essere visitato anche da chi non ama il teatro e non vuole vedere uno spettacolo, si siede e si bea di tanta beltà, davvero. Sono onesta, io vi invito a vedere Il Clown del Clown, perché è uno spettacolo nuovo, è uno spettacolo di cui veramente vi innamorerete e ce lo chiederete se abbiamo la fortuna di continuare a lavorare qui tutti gli anni.